Due fucili compatibili con l'arma del delitto di Vincenzo Favoroso avvenuto il 26 novembre scorso sono state trovate dai carabinieri di Castelvetrano nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala. Si tratta di due fucili a canne mozze, uno dei quali potrebbe essere l'arma che ha ucciso il trentenne di Castelvetrano, meglio noto agli amici come Tacatà. I carabinieri sono arrivati al rimbenimento dei fucili rastrellando i terreni limitrofi al luogo del ritrovamento del cadavere. All'interno di una cavità di un albero d'ulivo è stata trovata una doppietta canne mozze perfettamente mimetizzata nell'incavo del tronco ligneo. Ulteriori ricerche hanno interessato anche il letto del fiume Modione dove i carabinieri con il contributo del nucleo sommozzatori dei vigi e fuoco di Palermo, dopo aver minuziosamente setacciato il corso d'acqua, hanno trovato un'ulteriore doppietta sempre a canne mozze protetta da un immolucro di plastica chiuso emeticamente. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad approfondite esami non solo di tipo balistico ma anche per il rilevamento di eventuali tracce biologiche.